Nelle marche reati in calo ma aumentano i furti. Secondo gli ultimi dati divulgati dal Ministero dell'Interno ed elaborati dai centri studi CNA e Confartigianato, i reati denunciati nella nostra regione nel 2014 sono stati 54.139 rispetto ai 56.336 dell'anno precedente, con una riduzione di 2.197 reati pari al 3,9% in meno. I furti, che costituiscono oltre la metà delle denunce, aumentano invece da 28.514 a 29.284, con un 2,7% in più. Si tratta di un dato che inverte la tendenza degli anni precedenti, quando i reati aumentavano di pari passo con la crisi. Tra le province marchigiane, quella con il maggior numero di reati denunciati è Ascoli-Piceno. Nella classifica delle province italiane, quella di Ascoli si piazza al 59esimo posto, seguita da Ancona, che è al 62esimo posto. Al 68esimo posto troviamo invece Macerata, mentre Fermo è 73esima e Pesaro-Urbino 85esima. Analizzando l'andamento dei reati nelle province marchigiane, emerge che l'unico territorio dove c'è stato un aumento, seppur limitato, dello 0,7%, è stato il Maceratese. Un incremento imputabile soprattutto alla forte crescita dei furti, mentre nelle altre realtà provinciali si è avuto un aumento contenuto, come ad Ascoli e Ancona, oppure addirittura un calo, come a Fermo e Pesaro-Urbino. Guardando alle diverse tipologie dei furti, emerge come i furti d'auto siano diminuiti solo a Pesaro-Urbino. In crescita un po' ovunque, anche i furti in casa, con una punta del 33,6% a Macerata. Se furti, scippi e borseggi aumentano, facendo crescere anche la percezione di insicurezza dei cittadini marchigiani, sono in forte calo le rapine. In diminuzione in tutte le province, anche i reati informatici, mentre le istorsioni diminuiscono ad Ascoli, a Fermo e a Pesaro-Urbino. Invece a Macerata aumentano anche le istorsioni, così come ad Ancona.